ciao buongiorno a tutti da francesco gabi fly oggi sono a cattolica per una manifestazione che si chiama ocean man devono fare praticamente 10 chilometri di mare tutti a nuoto se vi dovesse piacere questo video al limite mettete un like un mi piace e se non siete iscritti al mio canale mi farebbe piacere avervi tra i contatti un saluto da cattolica che è una stupenda giornata grazie a tutti 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 grazie a tutti